Scontri tra manifestanti palestinesi e polizia israeliana hanno macchiato l'apertura della settima edizione del Festival delle Luci di Gerusalemme. I disordini sono scoppiati nei pressi della porta di Damasco, dove un gruppo di attivisti palestinesi aveva indetto un raduno di protesta contro il festival organizzato dalle autorità israeliane nei quartieri arabi della città. La polizia ha usato granate assordanti per disperdere i manifestanti, alcuni dei quali hanno lanciato pietre e bottiglie contro gli agenti. Almeno tre persone sono state fermate. Il Festival delle Luci dal 3 all'11 giugno si inserisce in una rassegna che coinvolge diverse città nel mondo, da Glasgow a Lione a Lisbona e attira ogni anno a Gerusalemme centinaia di visitatori.